Sì, è aperto in questo caso? Assolutamente sì, è stato rivenuto il corpo di una donna fuori dallo specchio acqueo del porto di Luano e sono in corso le indagini. Che idee vi siete fatte? Al momento non abbiamo idee, la donna è ancora da identificare. Tratti somatici possono ricondurre qualche nazionalità? No, assolutamente, non abbiamo ancora idea. Tratti soltanto di una donna all'incirca sui 50 anni. È probabile qualcosa? No, assolutamente, in questo momento tutte le ipotesi sono aperte. Grazie.